. Serie A, Lazio Show. Immobile distrugge il Milan, 4-1. Serie A, Lazio Show. Immobile distrugge il Milan, 4-1. Brutta, terribile battuta d'arresto per il Milan di Vincenzo Montella, al cospetto di una prova di forza magistrale della Lazio e di Ciro Immobile. . Una partita combattuta nella prima fase, che ha preso sempre più la direzione della squadra di casa fino alla fine del primo tempo, due reti immediatamente prima dell'intervallo, due nei primi cinque minuti del secondo tempo. . Tre firme di Immobile e l'assist per Luis Alberto che ammazzano la partita ed il morale dei rossoneri, a segno solo per la gloria con Montolivo. Ora, la Lazio è la prima inseguitrice, a meno due, di Juventus e di Inter a punteggio pieno. Per il Milan, invece, prima sconfitta in questa stagione. . È il solito 4-3-3 con Suso e Borini a supporto di Cutrone quello che Montella porta allo Stadio Olimpico per la gara con la Lazio, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. . In mezzo, esordio per Biglia con Montolivo mezza alla sinistra. Match posticipato di un'ora sul programma iniziale a causa del violento nubifraggio che ha colpito la Capitale, che vede i padroni di casa scendere in campo con un 3-4-2-1 in cui Luis Alberto e Milinkovic Savic sono gli scudieri di Immobile. Sin dalle prime battute è evidente come il Milan abbia intenzione di tenere in mano il pallino del gioco, con la Lazio che attende con le linee molto vicine tra loro. . Un'occasione per parte nei primi 10 minuti, ma lo scatto di Immobile è anticipato da Donnarumma ed il mancino di Chessy e è facile preda di Stracoscia. . Il Milan trema però al quarto d'ora, con un corner che diventa insidioso dopo il tocco di Radu, e Bonucci che spazza lungo a pochi passi dalla linea di porta. . Negli stessi minuti, un problema fisico costringe Inzaghi a rimpiazzare Walace con Bastos. . La Lazio cresce però in intensità, guadagnando campo ed attaccando bene sulle fasce, ma eccezion fatta per un paio di contatti leggeri in area i ragazzi di Inzaghi non raccolgono nulla, vehementi le proteste per quello tra Luis Alberto e Musacchio, effettivamente di difficile comprensione. . Nella fase centrale il centrocampo rossonero diventa impreciso, sbagliando tante tracce banali, ma la Lazio non riesce mai a ripartire con convinzione, tutti i lanci verso Immobile sono letti bene dai due centrali e da Donnarumma. . Anche quando l'ex Napoli parte palla al piede in campo aperto, Musacchio è bravissimo a tenere l'1 vs 1 conquistando la rimessa. . Da un contropiede della Lazio nasce però la svolta del primo tempo, Immobile mette dentro per Luis Alberto, Bonucci respinge il tiro, ma il trequartista bianco azzurro si ributta dentro e va giù dopo il contrasto con che si è. . Rocchi indica deciso il dischetto, e Immobile non tentendo nella realizzazione, Donnarumma intuisce, ma forza ed angolazione del tiro gli rendono impossibile la respinta. . Il Milan è tramortito dall'1-0, ed ecco che la squadra di Simone Inzaghi ne approfitta subito, azione travolgente, palla che sfocia sulla destra dove Lulli mette dentro il cross lungo, sul secondo palo Immobile è tutto solo, ed il suo destro schiacciato al volo si infila in rete per il 2-0 che fa impazzire l'Olimpico alla fine del primo tempo. . Pronti via, il secondo tempo prolunga lo shock del primo, ed anzi lo peggiora, la Lazio attacca da sinistra, Lulli tocca dentro per Parolo che riesce a servire Immobile dietro ai difensori. . Zampata del napoletano che beffa Donnarumma e fa 3-0 con la tripletta personale. La partita sembra già in ghiaccio, ma i bianco celesti non accennano a fermarsi. . Bonucci perde palla in impostazione verticale, e sul contropiede c'è una prateria per gli attaccanti di Inzaghi, Immobile vola sulla sinistra e stavolta ricama alla perfezione per mandare in porta Luis Alberto. . . Tutto solo, lo spagnolo può mirare e far gonfiare la rete col destro per la quarta volta, nel tripudio dello Stadio Olimpico. . 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